certi livelli del formicaio adonis primus non vedono mai la luce naturale alcuni abitanti a malapena sanno cosa sia anche nei livelli più alti nelle zone più agiate le improbabili geometrie disegnate dagli edifici stratificati rendono certi vicoli perennemente oscuri oltre a scantinati bettole piccoli appartamenti maleodoranti c'è l'imbarazzo della scelta una città formicaio è un luogo paradossale per certi versi può nascondervisi di tutto ma niente può rimanere nascosto affaristi del mercato nero ladri sognatori per di tempo illusi o disillusi o perché no brava gente o magari un gruppo di amici di lunga data che decide di incontrarsi per discutere di questioni della massima importanza fuori dalle sedi che sarebbero invece opportune sono in cinque il prefectus samma in glorion ed altri quattro individui sembrano persone distinte cittadini privilegiati ed abbienti grati di essere nati alla giusta distanza dal livello del suolo immagino che vorreste conoscere ciò che si sono detti quali segreti si sono scambiati quali verità sono state sussurrate purtroppo non ci è dato di saperlo al momento possiamo solo immaginare e sperare di essere nel giusto sono trascorsi cinque giorni dalla notte dell'incontro niente che possa essere degno di nota è accaduto nel frattempo e samma si accinge ad aprire la porta del suo studio l'aria è viziata come al solito anche sia un odore diverso da quella cui abituato chi riaffiorano alla mente i ricordi di quando era un giovane uomo e traeva piacere nel fumare i bastoncini lo curioso solleva il capo e scruta la pila di carte sulla scrivania che l'attendente deve avergli recapitato qualche ora prima la suola tassellata di un elegante stivale in pelle nero si offre alla sua vista la mano di samma scatta verso la fondina afferra il calcio della pistola il braccio si tende la sicura viene rimossa il collimatore in mezzo alle tacche del mirino si allinea con il volto dell'uomo che osa sedere con cotanta arroganza sulla sua poltrona la faccia però è nascosta da una densa nuvoletta di fumo mentre la mano dello sconosciuto allontana dalla sua bocca il bastoncino lo dietro di lui un altro uomo con un pesante cappotto di pelle marrone lungo fino ai piedi pone mano alla fondina di rimando ma l'ostilità di samma non incontra una pari aggressività si limita a rimanere vigile mentre scruta con attenzione il dipanarsi della situazione prefectus samma in glorion è questa l'accoglienza che è riservata ad una vecchia conoscenza l'uomo seduto si alza togliendo lo stivale dalla scrivania i suoi connotati diventano visibili mentre il volto fende lo sbuffo di fumo il suo abbigliamento è raffinato ma ciò che cattura l'attenzione è senz'altro il simbolo di autorità che porta appuntato sul petto una attraversata da tre linee orizzontali ravvicinate la rosetta inquisitoriale non è esposta con leggerezza da parte dell'inquisitore del suo seguito viene mostrata solo quando si rende necessario sottolineare la propria influenza o incutere forzatamente timore come possiamo presumere sia questo il caso samma abbassa l'arma colto alla sprovvista interrogato rabbit la vostra audacia ha rischiato di generare un incidente diplomatico che ne avrebbe procurato più di qualche grattacapo samma è un diplomatico accorto nel gioco delle parti sa di dover sottostare al peso di quella rosetta ma senza mostrare servilismo l'interrogator prorompe in una fragorosa risata che ne scuote il ventre perdonatemi sapete che ho un certo debole per la teatralità e per le entrate ad effetto samma simula un sorriso pieno di comprensione come darvi torto ma ve ne prego accomodatevi aggiunge indicando la poltrona che normalmente è riservata a coloro che ottengono udienza presso il prefettus ebbene a cosa devo la vostra cortese visita le sue mani si uniscono davanti al petto con i gomiti poggiati sulla scrivania e le punte delle dita che si toccano ma come avete già dimenticato che mi avete fatto recapitare un messaggio riguardo a quella come si chiama orsellia mi aspettavo che un prefettus dell'ogis strategos avrebbe intuito da solo l'interrogator ha un modo di fare estremamente colloquiale nonostante i due non si siano mai incontrati di persona se non tramite holoproiezioni appare incredibilmente a proprio agio benevolo ridanciano persino tuttavia non a seconda l'invito a sedersi piccolezze potremmo etichettarle ma è questo il campo di battaglia quando si affronta il potere dell'inquisizione sarebbe sciocco ritenere ogni singola parola di questo dialogo una casualità il secondo uomo intanto che ancora non ha rivolto parola a nessuno rimane in disparte vigile ma soprattutto immobile così immobile da trovarsi adesso alle spalle di samma esattamente dove era prima quando vi stava seduto l'interrogator avete ragione abbiate pazienza la mia mente vaga così sistematicamente in lungo e in largo alla ricerca dei più minuti segreti che a volte mi pongo troppe domande di fronte anche ad evidenze tanto grandi posso presumere perciò che abbiate preso in carico la questione di orsellia si guarda bene dall'aggiungere l'appellativo di santa nonostante lei ami farsi chiamare così già ma adesso è il mio turno di presumere e presumo che voi sappiate già cosa è successo l'interrogator abbott appare chiaramente divertito da quello scambio ovviamente ma del resto ad ogni uomo il suo vizio a voi interrogator la teatralità a me il bontone di rispetto dell'etichetta orselli è stata catturata interrogata e trovata colpevole il suo cadavere giace arso su di un robo nel settore beta 12 da oltre trenta ore un monito per tutti coloro che non sanno distinguere le ombre della corruzione dalla luce salvifica del dio imperatore abbott sta per sputare per terra ma si trattiene un vero scempio in glorion quando abbiamo messo piede nei suoi alloggi abbiamo trovato tracce dei poteri perniciosi praticamente ovunque è incredibile come la folla sia disposta a bersi qualunque cosa pur di non accettare con dignità il destino che l'imperatore ha previsto per loro ah sono tempi bui il male si annida fuori dalle nostre mura tanto quanto al loro interno non si può mai essere sicuri che il proprio miglior amico sia davvero chi dice di essere samma deglutisce nervosamente sente lo sguardo fisso del secondo uomo su di sé anche se si è innocenti vi è sempre da temere di fronte all'inquisizione tuttavia all'esterno è una maschera di freddezza e rimane impassibile in silenzio homo homini lupus l'ho letto da qualche parte tanto tempo fa non chiedetemi dove non saprei rispondervi e scoppia nuovamente in una fragorosa risata poi si ricompone improvvisamente assumendo un tono formale che risulta quasi fuori luogo cucito addosso a lui così come l'errore merita la riprensione e la punizione la diligenza merita l'elogio e l'encomio l'inquisitore gaius desidera espressamente che ve riporti la sua gratitudine e credetemi in glorion non è certo riconoscimento da poco il mio dovere verso l'imperium e l'imperatore si concluderà solo con la mia morte sperando che anche in essa vi sarà da trarne un'utilità l'intera che tor lo osserva rimanendo serio ancora per qualche attimo lo sguardo fisso su samma sembra approvare la devozione mostrata finneas lasciaci soli di grazia dobbiamo discutere di una questione privata per la prima volta l'uomo che fino a quel momento non aveva avuto un nome si anima i suoi movimenti sono lenti mentre supera samma continua a scrutarlo apparentemente privo di emozioni per poi richiudere la porta alle sue spalle il prefectus se potesse permettersi il lusso di mostrarsi apertamente sarebbe sia atteso che eccitato del resto è una deformazione professionale i segreti sono il suo pane quotidiano non credo mi trovi molto simpatico samma abbozza un sorriso l'interrogator abbot si riscuote dal clima gelido che aveva pervaso la stanza dopo l'uscita di scena dell'accolito chi finneas lasciatelo perdere è uno sciocco ancora ma è uno sciocco zelante raramente ho conosciuto persone capaci di follie come le sue dannazione quel giovanotto è più duro di un pelle verde ma a volte lo zelo è ciò che permette agli umili servi dell'imperatore di sondare le più tetra realtà e trovare il male laddove si annida più recondito nell'oscurità una lunga pausa interrompe le sue parole lo sguardo è fisso su samma sapete grazie a lui siamo riusciti a mettere le mani su di un tipo strano ieri abbiamo braccato per diverse settimane ma infine abbiamo ottenuto ciò che desideravamo non si può sfuggire a lungo allo sguardo dell'imperatore lo abbiamo buttato in una cella per il momento comprenderete che la solitudine la fame e la sete vi sciolgono la lingua prima di un bel interrogatorio non so se mi spiego l'osserva divertito una certa complicità negli occhi vedete finneas continuava a ripetermi di sentire qualcosa in quell'individuo un'ombra qualcosa di innaturale lo percepiva fisicamente e spiritualmente come se fosse stato guidato da un'illuminazione un'illuminazione divina in glorion non l'ho mai visto in quella maniera sembrava un lupo che non vuole smettere di azzandare un osso se mi permettete la similitudine e chi sono io per oppormi ad uno strumento del dio imperatore sarebbe quanto mai arrogante increscioso persino così lo abbiamo seguito per molti giorni e dopo poco ci è apparso chiaro che quel tizio fosse coinvolto in qualcosa di come dire oscuro ancora non so dirvi che cosa dire il vero ma si è incontrato con molte persone negli ultimi tempi chi non ha niente da nascondere non cerca certo rifugio negli angoli oscuri di adonis primos tuttavia quando ci siamo avvicinati per porre delle legittime domande un altro individuo che era con lui sembra aver dato una sorta di allarme si sono dispersi ancora prima di vederci arrivare curioso vero sospetto che avessero un complice che fungesse da palo e che li ha avvisati o peggio un opzionico latente o un opzionico non sanzionato potrebbe averci percepiti e delle due quest'ultima rimane forse la spiegazione più probabile le nostre ricognizioni non hanno mostrato presenze significative nei paraggi ma caro inglorion noi sappiamo fare bene il nostro lavoro ce ne sono sfuggiti diversi non di meno il nostro amico è caduto fra le braccia amorevoli dell'inquisizione ovviamente ha opposto resistenza e questo gli è valso la gabbia del resto non è forse la reticenza la più infantile delle ammissioni di colpevolezza rimane solo da comprendere quale sia la colpa avresti dovuto vedere finneas era eccitato come un ragazzino ai primi amori non lo diresti vero freme solo all'idea di mettergli le mani addosso a lui ed ai suoi amici in particolar modo da quello psionico pare che di recente vi sia una specie di risveglio i folli sbucano come dannati funghi le navi nere non sono mai state così piene in tutto questo samma non ha mai battuto ciglio le mani posate sulla scrivania l'unico dettaglio che ha tradito il suo nervosismo è un leggero tremolio dell'occhio destro l'interrogator abbot si alza sospirando gli dalle spalle mentre si dirige verso la porta si volta appena guardando samma da sopra la spalla il suo nome è eliphas ti dice niente per casa il tono è gentile le labbra leggermente increspate in un sorriso accogliente ma gli occhi gli occhi sono quelli di una tigre che ha percepito l'invitante odore del sangue sbarrati iniettati di capillari vermigli sono due pozzi neri che scrutano sotto la pelle del prefectus samma si sente nudo di fronte a quelle iridi non vi è via di fuga di fronte a quello sguardo ogni apparenza di buonarietà nella figura dell'interrogator è scomparsa appare soltanto un ricordo lontano e inverosimile abbot sembra un predatore in disperata ricerca della sua preda egli sa non può non sapere che eliphas è uno di coloro con i quali giusto qualche giorno prima anche lui si è incontrato forse sta solo cercando di mettergli paura forse sta solo cercando di ricordargli che per quanto samma lo abbia aiutato in passato non saranno mai amici non saranno mai sullo stesso livello che anche lui come tutti deve sempre temere l'occhio vigile della santa inquisizione no non può essere quel tono di voce quello sguardo sembra che la faccia dell'interrogator sia divisa in due dal naso in giù il volto di un conoscente di vecchia data pacato e benevolente la parte superiore sembra appartenere ad un'altra persona appare quella di un sadico che ha trovato un nuovo giocattolo con cui divertirsi sì interrogator credo di aver capito a chi ve riferiate ci conosciamo da molti anni un uomo per bene o almeno lo ritenevo fino a qualche istante fa la gola è secca mentre risponde deglutisce a vuoto non riesce a staccare gli occhi dai suoi magnetici e botchi nel capo sorridendo una saggia risposta perfectus in glorion solo uno sciocco avrebbe potuto mentire nella speranza che qualcosa potesse rimanere nascosto a lungo in questo posto tuttavia mi sorge una domanda adesso che persona siete voi siete il tipo di sprovveduto che non sa con chi si accompagna o il tipo di sprovveduto che non sa che accompagnarsi con certa gente è pericoloso la situazione sta sfuggendo dalle mani del prefectus i pensieri turbinano vorticosamente nella sua testa rimbalzano in maniera frenetica come se cercassero di fuggire dalla prigione della sua scatola cranica interrogator io vi giuro non niente a che fare con tutto questo il nome di tutti i miei anni di fedele servizio perché dovrei non finisce la frase la tensione si scioglie in una risata di abbott o forse no su via in glorion stavo scherzando chi potrebbe mai dubitare della lealtà all'imperium di un perfectus dell'oggi strategos sono sicuro che non abbiate niente a che fare con questa spiacevole storia di elifas sono solo un umile servo dell'imperatore che in qualità di esponente dell'inquisizione desidera ricordarvi quanto sia facile cadere vittima della corruzione dei poteri perniciosi o di un più banale fraintendimento vi rinnovo ringraziamenti da parte dell'inquisitore gaius possa la sua benevolenza appartenervi a lungo vi auguro un buon perseguimento con permesso tutto nella stanza sembra immobile tutto fuori dalla stanza sembra immobile a dire il vero non giunge più alcun suono alle orecchie di sam quel silenzio tanto agognato sembra adesso una realtà ma questo silenzio non porta ristoro questo silenzio è dovuto solo allo stordimento all'angoscia all'ansia l'immobilità è interrotta finalmente da una timida goccia di sudore che gli cola dal collo giù lungo la schiena rabbrividisce è come se la sua esistenza si stesse accartocciando su se stessa come se il tessuto della realtà si ripiegasse deformandosi generando mostri la scarsa luce che filtra dalla finestra lo acceca sembra brillare come non mai quasi come a ricordargli che egli non può nascondersi dall'occhio dell'imperatore calma serve calma adesso eliphas cosa può essere successo abbott non può conoscere la verità non sa su cosa sta mettendo le mani deve esserci stato un malinteso quell'idiota si sarà cacciato in chissà quale casino ed ora sta mettendo tutto in pericolo il pensiero corre rapido a marica al bambino e per cosa che sia maledetto eliphas e la sua sceleratezza non ora che il loro compito è quasi terminato così facendo ha attirato le attenzioni peggiori possibili inutile che lui tente di tenere per sé le informazioni adesso stanno rischiando seriamente samma e la sua gente quanto ci metterà l'interrogator a comprendere le reali ragioni che legano il prefettus a quell'uomo quanto ci metterà a capire che samma non ha nulla a che fare con quello psionico ma con tutt'altro e se non gliene interessasse l'inquisizione è ben capace di non fermarsi davanti a niente e nessuno non appena gli metteranno le mani addosso capiranno sarà una questione di ore se non di minuti persino se eliphas dovesse tacere o morire ma adesso non c'è spazio per il panico tuttavia deve allontanare la sua famiglia devono fuggire prima che l'irrimediabile accada ripensa alle parole di ebbott l'encomio dell'inquisitore gaius che folle a bersela quella visita è stata solo per mettergli paura per sondare il terreno per osservare le sue reazioni per fortuna ha avuto la lucidità di non negare di conoscere eliphas solo l'imperatore sa cosa sarebbe successo altrimenti rabbrividisce il pensiero lo ha messo sotto pressione sta chiaramente cercando di indurre un errore alla prima mossa falsa sarà catturato e giustiziato e tutto verrà a galla inutile il vantaggio che la sua posizione nell'administratum avrà fornito a lui e alla sua gente di nuovo braccati col fiato sul collo proprio ora che sembrava che tutto stesse per risolversi vorrebbe solo correre a casa sua adesso abbracciare la moglie marica e dirle che le dispiace che la ama ma non può non deve dare nell'occhio deve comportarsi normalmente solo comportarsi normalmente attenderà pazientemente la fine del turno e poi penserà ad una soluzione il breve cammino di ritorno sembra durare un'infinità le gargolle dell'edificio dell'administratum sembrano fissarlo quando esce dalla struttura lo accusano con lo sguardo colpevole sciocco insulzo il suo volto è una maschera di tensione davanti a sé proiettato su ogni superficie sulla quale posa lo sguardo continua a vedere gli occhi sadici di ebbott lo tormentano quando varca la soglia della sua abitazione delle urla concitate lo attendono la levatrice cassandra gli corre incontro trafelata sporca di sangue perfectus vostra moglie sta partorendo per qualche minuto comprenderete i pensieri di samma si distolgono dal pericolo dell'inquisizione quando irrompe nella stanza un sussulto la scena sembra quella di un crimine vi è sangue ovunque sulla lenzuola sul volto di lei sulle braccia che stringono il figlio quasi non si accorge che lei è sempre più pallida samma vorrebbe scoppiare a piangere ma non ha abbastanza forze il parto l'ha consumata ce l'abbiamo fatta guardalo lo sguardo si abbassa sul piccolo che si agita sul suo petto è bellissimo samma si avvicina al letto dove lei giace la schiena appoggiata su dei cuscini che la tengono semiseduta le fa una carezza sul volto mentre chi nel viso sul neonato il petto del bambino si alza e si abbassa come un piccolo mantice impazzito mentre emette dei suoni che sembrano più simili a stridi che ad un pianto le gambe e le braccia sono affusolate l'incarnato è di un bianco violaceo le altre due braccia che fuoriescono dai lati della cassa toracica terminano in tre dita artigliate che mostrano già dai primi minuti di vita la loro forza file di denti appuntiti adornano la sua bocca mentre una lunga lingua appuntita serpeggia sibilando fra di essi gli occhi gialli fanno risaltare le pupille nere verticali uno strato rigido di chitina ricopre già parte del cranio e del dorso il neonato se così si può chiamare è svariate volte più grande di un normale bambino non c'è da sorprendersi che marica sia in fin di vita è bellissimo marica i sibeli nell'aria si intensificano all'improvviso le menti di samma marica cassandra dell'attendente risuonano all'unisono assieme a quelle di milioni di altre non è come sentire una voce dentro di sé è come essere quella stessa voce è come diventare un unico corpo frammentato tutti sanno cosa sta accadendo in men che non si dica le strade sono piene di uomini donne bambini ognuno impugna un'arma improvvisata o meno le differenze fra i membri di questa folla non contano più niente ormai fra di loro svettano colossali mutanti che si avventano su chi non viene riconosciuto come parte di quel super organismo formato da milioni di corpi le trasmissioni vox che intonano cantilene in nome del dio imperatore si interrompono il rumore bianco che ne segue viene spezzato solo dalla tetra voce di un uomo un profeta un sobillatore una guida un ribelle chi può dirlo lancia le sue invettive contro il dio cadavere che viene idolatrato ingiustamente ne annuncia la fine incita le folle alla rivolta Sam all'improvviso sembra aver perso interesse in tutto l'administratum l'interrogator marica quel figlio così mostruoso eppure così normale niente ha più senso oramai di tutto questo il patriarca ha sovrascritto la loro volontà con la propria quello che fu il prefectus si avvicina ad un balcone l'aria è insolitamente secca quella sera si vedono bene le guglie più alte di adonis primus si vedono distintamente i bassi fondi del formicaio chilometri più in basso si vedono bene le fiamme che avvolgono delle sagome volanti che oscurano i cieli ciascuna per centinaia di metri bocche colossali irte di zanne tentacoli che sferzano l'aria in quota rarefatta speroni e probosci di cave che si gettano in picchiata verso il suolo tutto questo ricopre i loro scafi viventi una pioggia di quelle che ad un primo sguardo sembrerebbero meteore solca la volta celeste come muovendosi a rallentatore l'ingresso nell'atmosfera le fa incendiare e brillare in maniera sinistra a migliaia e migliaia impossibili da contare sono arrivati sono qui finalmente i figli delle stelle a migliaia a migliaia a migliaia a migliaia a migliaia a migliaia Grazie a tutti